Ciao a tutti. Oggi siamo con il Fimia 3 e facciamo una prova delle modalità Smart Fly, quindi Follow Me, Orbit e Selfie Mode. Adesso siamo in Follow Me e voglio verificare se il Fimia 3 segue anche in altezza il soggetto. Quindi ho centrato l'immagine su di me e poi ho attivato il Follow Me, che funziona esclusivamente sulla posizione GPS. Come si può notare sulla destra abbiamo la telemetria. L'altezza è fissa a 9 metri e adesso provo a camminare in un pezzo in salita per vedere se cambia di quota. Apparentemente non cambia. Sembra non cambiare di quota. A questo proposito bisogna fare attenzione perché siccome il Fimia 3 non è sensore anti collisione, se ci sono ostacoli di mezzo, come in questo caso alberi, si rischia di andarci a sbattere contro. Quindi bisogna fare molta attenzione in Follow Me perché, come si può vedere, il Fimi non segue l'altezza del radiocomando, però segue molto bene la posizione e quando ci si ferma anche lui si ferma immediatamente. E' molto sensibile alla posizione del radiocomando. Basta muoverlo di pochi centimetri che il Fimi inizia già a seguirlo. Un'altra cosa da considerare è che non avendo l'Active Track il soggetto potrebbe essere centrato rispetto al centro dell'immagine, in particolare quando si fanno delle salite e delle discese. Perché la camera non varia l'inclinazione e il Fimi a 3 non varia l'altezza. Quindi si parte al centro dell'immagine a livello diciamo di altezza e si finisce per essere sopra o sotto a seconda se si percorre una salita o una discesa. C'è anche da notare come la trasmissione analogica a 5,8 GHz sia sensibile alla vegetazione e come si può notare ci sono dei disturbi tipici della trasmissione analogica. In particolare quando tra radiocomando e drone c'è qualche ostacolo come ad esempio gli alberi. Qua siamo in vicinanza stretta di un albero. E' un po' un'illusione ottica perché in realtà siamo sopra, però comunque bisogna fare attenzione perché come ho detto prima non ci sono sensori evitamenti ostacoli. Adesso percorro un'ulteriore salita più ripida per vedere se effettivamente mi seguo in salita. e niente, mantiene comunque 9 metri rispetto al punto di decollo. Quindi in questo momento io sono sulla parte alta dell'immagine mentre sono partito più o meno al centro. Invece la distanza rispetto al radiocomando l'ha mantenuta a 15 metri. E' bravissimo a mantenere la distanza rispetto al radiocomando tenendo presente che si può anche variare la posizione del drone sia in altezza che appunto in distanza rispetto al radiocomando. E' anche l'inquadratura mantenendo il follow me attivo. Durante il tragitto possiamo agire sugli stick per variare inquadratura e il follow me segue di conseguenza. Con la nuova inquadratura e il nuovo posizionamento in distanza del drone è anche in altezza visto che da solo non riesce a regolarla. Evidentemente nel radiocomando c'è soltanto un gps e non il barometro. Quindi non riesce a trasmettere l'altezza del punto a cui si trova. Notare anche come l'orizzonte sia storto nonostante nell'ultima prova abbia calibrato in modo ottimale il gimbal e quindi questa è una cosa su cui la film deve ancora lavorare. Così come i colori troppo vividi dell'ultima release firmware della camera che ha appunto reso più vividi i colori però sono meno naturali. La versione precedente di firmware la 1013 ha colori più naturali quindi sarebbe meglio forse tornare alla versione precedente di firmware per la camera. Per uscire dal follow me e dalle altre modalità di volo intelligenti basta premere una volta il tasto home quello del ritorno a casa automatico. Selezioniamo dalle modalità smart fly nelle modalità intelligenti il selfie mode cioè l'allontanamento droni. Basta premere una volta premuto la voce selfie mode. Il film A3 si allontana di 150 metri rispetto al punto da cui è iniziato tutto e si alza anche di quota. Una volta arrivato a 150 metri di distanza fa hovering per qualche secondo e poi torna indietro. Torna indietro precisamente nel punto da cui è iniziato. Quindi fa esattamente lo stesso movimento però al contrario. Adesso qua fa hovering e adesso inizia l'avvicinamento. C'è un po' di effetto gelatina perché nel frattempo si è alzato il vento. Eccolo qua che è tornato esattamente nel punto da cui è partito. vediamo adesso come fare l'orbit. Bisogna portarsi sulla verticale del punto centrale del cerchio che si vuole effettuare in orbit. Una volta sopra si seleziona la modalità orbit. Poi ci si allontana della distanza desiderata del raggio di rotazione appunto. Si muove la cam in modo da scegliere l'inquadratura desiderata. E quando sei pronti si dà il via muovendo lo stick. Sia in una direzione che nell'altra. In questo caso io muovo lo stick a destra e il drone va a sinistra perché ha la prua rivolta verso di me. Si può anche aumentare o diminuire la velocità dando più o meno comando con lo stick. Durante l'orbit si può anche variare la distanza del raggio. Quindi lo posso allontanare mandando lo stick indietro. Lui si allontana da me mentre se lo mando in avanti lui si avvicina da me visto che ho la prua rivolta verso di me. Si può anche variare l'altezza. Tutto sempre durante l'orbit. L'orbit continua costantemente fino a quando non si interrompe premendo sul tasto home e si esce dagli smart fly. Bene direi che per questa prova è tutto. Abbiamo visto tre modalità che possono essere interessanti per questo drone. Abbiamo visto anche qualche difetto tra cui il gimbal che fatica ancora un po' a rimanere dritto. La problematica del segnale video a 5,8 gigahertz che è molto direttivo e quindi se c'è qualche ostacolo ne risente. Soprattutto se c'è vegetazione perché le onde radio non penetrano nella vegetazione. Abbiamo visto anche la qualità video che al massimo diventa di 1080p a 30 fps. Tutto sommato nonostante questi piccoli difetti che penso andranno migliorati via via dalla Fimi con i prossimi aggiornamenti firmware. Questo rimane ancora secondo noi un ottimo drone. Il miglior drone entry level perché a circa 260 euro 220 euro con il coupon sconto in descrizione non c'è un altro drone che ha le stesse prestazioni. In particolare nella qualità video stabilizzata su tre assi. Due meccanici e uno elettronico. Bene grazie a tutte per l'attenzione. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima prova con Quadricottero News.